Ciao a tutti, oggi sono qui per condividere con voi una notizia scioccante. Mi raccomando, cercate sempre di invertire in modo sarenchiano il tutto. Beh, questa notizia sicuramente comunque per molti sarà scioccante, perché non so se lo sapete, non so se l'avete saputo, se lì ne stanno parlando, ma probabilmente no, perché diciamo che agli ambienti convenzionali queste notizie non piacciono molto. Loro sono abili nel mascherare la verità, ma nel momento in cui bisogna diffondere la verità, beh, lì tutti stanno sull'attenti ad aspettare le direttive dall'alto. Comunque, dall'alto. Comunque, non so se lo sapete, ma Klaus Schwab è stato accusato di molestie sessuale al World Economic Forum. Voglio condividere con voi questo articolo, perché fa tanto riflettere su un punto in particolare di cui vi voglio parlare. E in più, prima di cominciare, volevo anche ricordarvi che mi trovate sul secondo canale. Vi basta andare nella info, lascerò il link dell'articolo e anche il link del secondo canale giù nella info. Sul secondo canale sto pubblicando video nuovi, quindi, insomma, se siete interessati al mistero, se il mistero vi affascina, io vi aspetto sul secondo canale. Mi raccomando, l'unica cosa che vi chiedo è quella di diffondere i miei video. E ovviamente ringrazio già tutti coloro che lo fanno. Ora, avete mai pensato ai vari personaggi che compongono il sistema, o meglio, ai vari burattini che vengono stanziati in posizioni di potere e che molto spesso li vediamo lì quasi a tirarsela, no? Io sono presidente, io sono capo di questa organizzazione, io sono amministratore delegato, io sono, io sono. Però poi alla fine, ragazzi, questi personaggi per il sistema, o meglio, per coloro che veramente ricoprono le alte, le cariche più alte, non contano granché. Tu, fin quando servi al sistema per arrivare ad un determinato punto, ad un determinato fine, allora bene, il sistema si serve di te, magari del tuo carisma, di quello che tu puoi fare, della tua autorità. Ma nel momento in cui tu al sistema non servi più, il sistema è con lì che non ti tutela come faceva prima, ti espone, diciamo, a degli scandali, non ti protegge. Io, più e più volte, vi ho parlato di questo sistema e del fatto che c'è tanta corruzione e soprattutto vi ho parlato anche del fatto che se ad oggi problemi come il crimine, la fame nel mondo, la povertà nel mondo non sono stati risolti è perché semplicemente non si vuole, perché il denaro c'è per farlo. Poi sono le stesse istituzioni ed organizzazioni, vediamo per esempio la chiesa, ma anche i calciatori super pagati, prendono tantissimi soldi, ok, per incorrere un pallone. Anche nelle chiese ci sono tantissimi soldi, c'è tantissimo oro. E questo sfarzo è completamente, diciamo così, è come un pugno all'occhio se poi andiamo a leggere la storia di Cristo, di come si poneva in modo umile nei confronti degli altri, perché diciamo che lui, per così dire, predicava un altro tipo di ricchezza, quella interiore, di certo non quella materiale, ok? Quindi ci sarebbero soldi, o meglio sì, ci sono soldi per risolvere determinati problemi, è solo che non si vuole. Quante volte vi ho fatto questo ragionamento, no? Quindi se determinati problemi non vengono risolti, è semplicemente perché in determinate organizzazioni, istituzioni, ci sono delle persone abili a nascondere, esempio, lo scandalo di un politico, lo scandalo di un attore, lo scandalo di un cantante, fin quando fa comodo. Nel momento in cui quel politico, nel senso, non ti serve più, allora non stai più, chissà quanto dietro, a proteggerlo da quello scandalo che potrebbe emergere. Tra l'altro loro, chi sta in alto, chiamiamoli rettiliani, chiamiamoli come volete voi, chiamiamoli energia negativa, chiamiamolo demiurgo, chiamiamoli come volete voi, arconti. Insomma, loro, nel momento in cui, voglio dire, nel momento in cui sanno, no? Che qualcosa, o meglio qualcuno, li potrebbe aiutare, li fanno di tutto. Quante cose hanno coperto, per esempio, di Joe Biden tantissime, eppure non è che si sente parlare, chissà quanto, no? Di tutto quello che ha fatto lui, anche all'epoca della presidenza Obama, con Obama, e per Obama, no. Capite? Adesso si sente semplicemente parlare, di Biden, come di un nonino, anziano, che non potrebbe, comunque, ricandidarsi alla presidenza, a differenza di quello che sostiene lui stesso. però capite? Nel momento in cui tu non servi più, allora lì cercano di mollare la presa, e dicono, si va, ma chi se ne frega, se anche c'è questo scandalo, ormai lui non ci serve, lei o lui non ci servono più, e quindi fate pure uscire lo scandalo, nel senso, non affannatevi, chissà quanto a proteggerli. Tra l'altro, lì in alto, molto spesso, usano, diciamo, gli stessi scandali, un po' come ricatto, esempio, se tu politico non fai come ti dice l'alto, allora noi diffondiamo questo scandalo, e nessuno più nel mondo ti vedrà con occhi, diciamo così, pieni di bontà, eccetera, eccetera, tu diventerai un mostro, ok? E veramente, se emergessero tutte le cose, in cui loro hanno le sporche manacce, ragazzi, davvero, verrebbero etichettati da tutto il mondo come i mostri, però, noi viviamo comunque in un'inversione arcontica, ricordiamocelo, e quindi, in questo mondo, chi vuole fare del bene, viene etichettato come un mostro, invece, chi continua a devastare continuamente le nostre vite, è il salvatore. Ora, questo discorso perché l'ho fatto? Perché voglio dire, no, Klaus Schwab, adesso, adesso parliamo del fatto che è stato accusato di mostri sessuali, perché se ne parla semplicemente adesso? Può essere anche che non c'entra niente quello che vi ho detto, il mio discorso era generale, per farvi capire che loro stessi, l'alto, a loro non frega niente degli ibridi, che sono stanziati in diverse posizioni di poteri politici, come tanti tanti altri, per loro sono semplicemente volti intercambiabili, che oggi ti fanno comodo, domani non ti servono, un po' come degli oggetti, loro sono privi di empatia, quindi non è che loro sono privi di empatia nei nostri confronti, però poi l'empatia la utilizzano con i loro ibridi, no, loro non conoscono empatia nei confronti di nessuno, capite? Quindi per loro, gli stessi ibridi, che gli aiutano a raggiungere i loro fini, sono comunque delle pedine, oggi mi servi, domani non mi servi, domani ti affosso, comunque domani non mi sforzerò più per cercare di difenderti. Qui c'è scritto, in un articolo che voglio condividere con voi, è che proprio lui, Klaus, è stato accusato di moleste sessuale, e di aver creato un'atmosfera ostile, nei confronti delle donne, e soprattutto qui c'è scritto dei neri, da più membri, dal personale del World Economic Forum, quindi a quanto pare, molte persone si sono lamentate, per alcuni suoi dubbi, atteggiamenti. Una nuova indagine del Wall Street Journal, rivela un catalogo di accuse, di decine di membri del personale del World Economic Forum, non contro il fondatore e presidente esecutivo dell'organizzazione. Ora noi sappiamo che Klaus è una persona deliziosa, non avrebbe mai potuto fare quello che ha fatto giusto, in versione sarenchiana, certo, loro non riuscirebbero a fare del male a nessuno, certo, ci crediamo tutti. Comunque, una donna, voi chiedetevi semplicemente perché queste cose escono adesso, ricordatevi che molte notizie fanno sempre parte del, io diffondo questa notizia per cercare di distogliere l'attenzione da cose ben più gravi, perché ragazzi funziona così, tu devi cercare di manipolare la mente umana, per no uscirtene in silenzio dal retro, capite quello che vi voglio dire, se ci sono tante persone che comunque ricercano una determinata tematica e tu su quella tematica vuoi fare qualcosa, nel senso se tu per esempio vuoi integrare un male, ma non vuoi che i riflettori siano chissà quanto puntati su di te, ecco qui che te ne esci con diverse notizie, può essere un avvistamento alieno, può essere qualcos'altro, adesso le elezioni, perché almeno qui ne stanno parlando tantissimo, non so lì, forse comunque meno, forse vi hanno detto la figuraccia che Biden ha comunque fatto contro Trump, eccetera eccetera, magari lì vengono condivise le cose più importanti, insomma qui se ne sta parlando tantissimo, però capite tutto questo fa parte di un'arma che è un'arma silenziosa, come nel documento, armi silenziose per guerre tranquille, fanno parte di tutte quelle manovre per cercare di tenere impegnata la mente umana su una determinata tematica, quando invece loro stanno operando per cercare di tirarcela addosso, comunque una donna ha detto, insomma ha dichiarato che lui le ha ripetutamente fatto commenti suggestivi, o meglio diciamo così, dei commenti poco carini, perché l'articolo in inglese è posato fisicamente di fronte a lei, presumibilmente per impressionarla, c'è molta pressione per essere belli e indossare abiti stretti, ha detto questa donna che appunto lavorava lì al World Economic Forum, mai nella mia carriera ho sperimentato l'aspetto, aspetto? Diciamo così, qui parlano di avance, possiamo così chiamarle, un po' indesiderate, e qui lui è stato anche accusato del fatto che molto spesso si poneva con fare dubbio sul posto di lavoro, sia nei confronti delle donne che nei confronti dei neri, almeno se i membri dello staff di sesso femminile sono state spinte fuori, o altrimenti o comunque hanno, diciamo così, sofferto molto perché venivano trattate in malo modo e molto spesso si trattava anche di donne in gravidanza, e qui c'è scritto qualcosa veramente, magari avevano dei contratti, prendevano questo congedo per maternità, nel momento in cui tornavano venivano trattate malissimo, un'altra mezza dozzina ha descritto le mole sessua, che hanno subito per mano di altri dirigenti, alcuni dei quali rimangono ancora oggi lì, alcuni dei quali sono ancora rimasti lì. Due hanno detto di essere stati, avete capito cosa, sessualmente, anni fa dai VIP, che partecipavano alle riunioni del forum, anche a Davos, dove si aspettava che il personale femminile fosse a disposizione dei delegati addirittura, quindi le donne che vengono un po' utilizzate come, no? Come se fosse un mega bordello, ragazzi, quindi le donne che vengono un po' utilizzate, come il giocattolino che tu puoi prendere, ecco, e divertirti. Scusate se a volte inceppo, ma appunto l'articolo in inglese, voi potrete sicuramente tradurlo. Comunque, qui c'è anche scritto che ci sono stati due incidenti recenti in cui i dipendenti hanno praticamente dichiarato che lui e anche altri componenti dello staff hanno più e più volte utilizzato la parola inglese per dire negro. Ora, ecco, l'ho detto, capite? fa schifo perché non si dovrebbe assolutamente dire una cosa del genere, ok? Sicuramente avrete sentito questa parola in inglese in molte canzoni rap, eccetera, eccetera, ok? Quindi hanno chiamato in tono dispregiativo i neri, ok? Che tra l'altro lavoravano anche lì o comunque in generale, no? Voglio dire, tu vai a discriminare la donna perché poi o a trattarla addirittura come un oggettino così da da... ecco perché io dico come cavolo facciamo a dire che la salvezza è alle porte se qua più andiamo avanti e più davvero c'è da mettersi le mani nei capelli. i dipendenti neri hanno anche sollevato la mentele formali ai leader del forum per essere stati ignorati e per essere stati lasciati da molte riunioni, qui si parla soprattutto di Davos. L'organizzazione ha negato ovviamente tutte le accuse, il signor Schwab non si impegna e non si è mai impegnato in comportamenti volgari che queste persone descrivono, però nel momento in cui comunque gli hanno proposto di essere intervistato o comunque di rispondere a determinati quesiti lui ha rifiutato di essere intervistato. Adesso sempre Klaus sta passando da presidente esecutivo del World Economic Forum a presidente del suo consiglio di amministrazione, una mossa che dovrebbe avvenire entro l'inizio del prossimo anno. Io vi ho più e più volte parlato anche del razzismo, cioè nel senso ragazzi tutti quanti noi viviamo in questa matrix, su questo mondo, insomma ora non so che cosa ne pensate voi della vita umana, se pensate che somigli più a una simulazione o a un modo di vivere naturale, quelle sono cose vostre, però fare ancora discriminazione, anche qui il razzismo nasce, perché nasce? Non di certo per colpa loro, ma sempre per colpa degli umani che devono fare queste cavolo di distinzioni e sempre per colpa degli umani che non si muniscono di un cavolo di rispetto e devono sempre cercare di creare le distinzioni, perché tu non sei come me, perché tu non credi in ciò in cui credo io, perché tu, perché tu, perché tu, è sempre a fare questi paragoni e queste distinzioni causano, queste distinzioni fatte nel non rispetto del prossimo, ovviamente causano discrepanze, divisioni, ma non ci si può rivolgere ad una persona nera chiamandola col suo nome, non ci si può rivolgere allo stesso modo ad una persona bianca, perché comunque ragazzi, qua ora ci tengo a precisarlo, nei confronti dei neri è stato fatto tantissimo male, io ve ne ho parlato quando anche vi ho raccontato la storia di Jim Jones, vi ho parlato di quello che purtroppo queste persone, della discriminazione che queste persone hanno dovuto subire ed è una cosa vera, ma come c'è la discriminazione nei confronti loro, c'è la discriminazione nei confronti di tutti, ok? Perché tutti, per una cosa o per un'altra, veniamo discriminati, veniamo discriminati dal sistema, possiamo essere, non so, discriminati da qualcun altro, anche io qui comunque molto spesso ho sentito parlare, diciamo, le persone in modo poco carino dell'Italia, no? E comunque sapevano che io provengo dall'Italia, anche se, vabbè, sono nata in Polonia, quindi non è che sono, sapete, ancorata, voglio dire, non so come spiegarvi questo, questo mio sentimento, ma comunque, anche se tu sai che io provengo da un determinato paese, comunque dici la cosa cattiva, perché lo fai? Di certo a me non è che mi ferisci, voglio dire, io ho una mia idea dell'Italia, tu ne avrai una bruttissima, pace è la tua idea, non è che adesso io mi sento male, se qualcuno mi dice che l'Italia fa schifo, a me non fa schifo, nel senso, dal punto di vista culturale, dal punto di vista del modo di vivere, avrei tantissimo da dire, ok? Questo sì, ma dal punto di vista culturale, dire che l'Italia è una brutta nazione, mamma mia, che azzardo, e quindi, anche se me lo dice un'altra persona, a me non me ne frega niente, però, perché l'uomo, perché gli umani sentono sempre, tolte le eccezioni, questa esigenza di doverti attaccare, di doverti ferire, magari di dover ferire, te, toccando un'altra persona, toccando il tuo luogo di provenienza, o toccando il tuo luogo di nascita, o toccando... Perché? Perché? Cioè, capite che in questo mondo non funziona niente? Adesso, il fatto che siano emerse queste, diciamo così, queste dichiarazioni, anche far riflettere, ma far riflettere relativamente. Sappiamo che comunque siamo in un sistema che sforna notizie di cui, no? Non ci dobbiamo proprio fidare al 100%, o comunque. Dobbiamo prendere queste notizie e cercare di ragionare su queste notizie, e non, ah sì, ok, è successo questo, e vado a dire a tutti che è successo questo. No, riflettiamo, riflettiamo. La storia ci ha insegnato un pochettino, no? Quello che è il loro modus operandi, quindi il loro modo di agire, il loro modo, no? E quindi, noi, dalla storia, dobbiamo cercare di imparare. Non dico ad anticipare le loro mosse, ma a comprendere quando loro agiscono e in che modo agiscono. Che cosa ne pensate di questa notizia? Una manovra? È la verità? Il fatto che lui comunque ha rifiutato l'intervista, forse lo ha fatto, perché, oddio, ragazzi, io non potrei mai venire qua a dire che non è vero. In questi ambienti, ma in tantissimi ambienti, c'è lo schifo, veramente, che se tu vuoi diventare, esempio, che ne so, una giornalista, andate a leggere quello che hai, che ha scritto anche dell'ambiente, del giornalismo, ecco, non è la cosa più, no? bella del mondo quello che accade lì, oppure se vuoi diventare qualcuno, dal punto di vista del mondo dello spettacolo, si sanno, no? Le cose che accadono. In questo caso, voi che cosa ne pensate? Sono vere le accuse? O è una notizia che è emersa per cercare, comunque, di, ancora una volta, destabilizzare l'attenzione del pubblico? O il sistema non lo sta tutelando più per qualche motivo, perché adesso forse vogliono utilizzarlo sì come pedina, ma come, diciamo, una pedina in negativo, in modo diverso? Che cosa ne pensate? Come vedete questa mossa? Fatemi sapere tutto sotto nei commenti, fatemi sapere anche un po' tutto quello che pensate in generale, ricordatevi sempre di rispettare gli altri, di rispettare gli altri perché è importante, perché soprattutto il rispetto nei confronti degli altri, della base per poter costruire un qualcosa di migliore. Non so come la pensate voi, fatemi sapere, vi aspetto anche sul secondo canale, per il momento vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.